Green clouds and rain, and more every day, I'm wondering, I'm wondering, looking for Una giornata di sole è l'ideale per presentare questa compilation in omaggio di Paolo Di Sarcina ne parliamo con Claudia che ha sicuramente un ricordo molto molto personale e stretto con Paolo ma soprattutto con l'idea di realizzare questa compilation Buongiorno a tutti, sì, in effetti questa idea è nata quattro anni fa è stato un lavoro molto lungo perché contattare e lavorare a stretto contatto con circa 104 musicisti è una cosa un po' lunga, anche in una città come Napoli dove l'amore e l'entusiasmo per la musica per le persone facilita così tanto i contatti però è stata un'opera paziente di cucitura di questi rapporti, di questi pezzi, di queste storie che abbiamo raccolto in questo disco in omaggio di Paolo ma soprattutto in aiuto se è possibile se ci riusciremo alla paziente lotta che l'ospedale San Gennaro porta avanti a sostegno dei malati di leucemia Quale ricordo particolare rispetto a queste canzoni che sono contenute in questo disco? Beh, ti potrei dire che ho 20 ricordi particolari visto che ci sono 20 pezzi in questo disco quella a cui sono in assoluto più affezionata è l'ultima del disco che è cantata proprio da Paolo perché era la canzone che da quando avevamo rispettivamente 14 e 17 anni lui mi cantava ogni volta che imbracciava una chitarra E' interessante scoprire che c'è ancora un discografico che è sensibile a certi argomenti come Nini Pascale che insomma si è dato anche lui da fare in questa direzione Sì, interessante nel senso che chi è il pazzo Esattamente No, niente, io credo che in un momento in cui secondo me la cultura è messa un po' da parte il fatto di fare nel proprio piccolo delle cose di questo tipo sia sicuramente importante quindi diciamo quando Claudia, appunto quattro anni fa, mi sembra tre Quando Claudia quattro anni fa mi ha proposto questo progetto Sicuramente ci sono stati pensieri contrastanti perché il primo naturalmente positivo perché Paolo è un amico, gli volevo bene e lo reputo un grande autore Il secondo negativo purtroppo perché oggi l'industria escografica così come quattro anni fa non è cambiato niente se non in peggio è diciamo in caduta libera e quindi fare un disco vuol dire avere problemi di promozione, distribuzione e compagnia bella Però appunto nel proprio piccolo si deve fare quello che uno sa fare produrre dischi, credo di saperlo fare quindi ho pensato che un altro disco così bello nel catalogo Paolo Sud ci voleva Quante copie hai deciso di stampare? Che tipo di distribuzione e promozione avranno? Per il momento sono 2000 e la distribuzione sarà affidata come al solito alla IRD che è un distributore nazionale, naturalmente non vi aspettate di trovare il disco negli autogrill però diciamo è un distributore nazionale che in alcuni negozi è molto efficace e poi naturalmente online sul sito www.paolosud.com dove si può acquistare tranquillamente No more rainy days e noi siamo qui a ricordare con tanto affetto Paolo Di Sarcena Grazie a voi Grazie a voi